Siamo a Lecce in via Principi di Savoia. Nei giorni scorsi il comune di Lecce ha installato questi paletti per permettere ai pedoni di camminare in sicurezza, delineando lo spazio loro dovuto. Ma cosa ne pensano i cittadini stessi? Il comune da poco ha installato questi paletti, cosa ne pensate? Benissimo, tutto ciò che blocca la circolazione delle vetture a favore dei pedoni va benissimo, quando sono in pedone. Quando sono in macchina invece sono di altro parere. D'accordo anch'io su questa cosa, purché si rispetti chiaramente. Anche il lato sinistro vedo che ho un po' occupato della carreggiata, ma va benissimo così, assolutamente. Ha fatto bene installare, c'è la possibilità di pedoni per attraversare tranquillamente. Prima non si riusciva? Prima non si riusciva, diciamo, perché come è la situazione adesso bisogna adeguarsi a tutto e per tutto. Signore, il comune ha da poco installato questi paletti per permettere proprio a voi pedoni di camminare in sicurezza, cosa ne pensate? Vuol dire che ci volevano, ecco. Nessuna polemica quindi, anzi la città apprezzata anche da chi la sceglie per le vacanze. Noi siamo turisti, siamo appena arrivati. Cosa pensi, Chantel? Beh, è utile, penso, per proteggere i passeggeri. Pedoni. Pedoni, scusa, non mi veniva la parola. Vi piace Lecce? Oh, spettacolare. È bellissimo, assolutamente bellissimo. È veramente bello. È un bijou, è un bijou, molto bello. Guarda, io vivo a Los Angeles e quindi i paletti ci stanno bene ragazzi, forse i paletti. Ti ricordano un po' Los Angeles? No, certo che no. Lecce come Los Angeles per te? No proprio, però su che canale stiamo andando? Che figura...